La consegna di diversi tipi di merce nelle città europee non solo non rappresenterà più nessun problema nei prossimi anni. Contro i ritardi accumulati nel tentativo di superare il traffico urbano, la start-up Starship ha ideato un prototipo di robottino da strada. Ultima novità nel campo della cosiddetta logistica dell'ultimo miglio. Insieme al mio socio, Janus Fris, ci siamo resi conto, meno di due anni fa, che era possibile automatizzare servizi di consegna utilizzando la tecnologia attuale. Telecomandato da un operatore via internet, il robot ideato da Starship è dotato di microfono e una cassa in modo da consentire la comunicazione con i clienti finali. Il robot ha su di sé una serie di sensori e diversi tipi di tecnologie. C'è ad esempio il GPS, nuove telecamere, se ne possono vedere alcune qui ed altre qui. E poi c'è il giroscopio ed altri dispositivi simili, mentre i sensori sono disposti sia internamente che esternamente. La maggior parte della tecnologia presente sul robot è la stessa usata nella telefonia mobile e i cellulari hanno lo stesso tipo di tecnologia. Le prime strade a ospitare la creazione della Starship saranno quelle britanniche, dove il robottino, che oggi non ha ancora un nome, debuterà a fine marzo. Grazie. Grazie. Grazie.